La nostra filiale ogni mattina si sveglia col sorriso. Buongiorno, come posso esserle di aiuto? Buongiorno, prego, si accomodi. Prelievi, versamenti, bonifici, giroconti, bollette F24, bolliauto, ticket sanitari, ricariche telefoniche. Ma certo, prego, vi accompagniamo al Bancoma e imparerete a fare tutto da soli. Noi desideriamo servire proprio tutti. E non è finita qui. Buongiorno. 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 Come banca siamo in prima linea per l'ambiente e dalla carta siamo volati alla tecnologia. Noi desideriamo costruire insieme a voi i vostri sogni. E tuteliamo i vostri risparmi. E aiutiamo l'economia a crescere. E poi siamo la filiale certificata SGAE che rispetta il sistema di gestione ambientale e dell'energia. Cerchiamo sempre di unire alla professionalità una buona dose di allegria. Buongiorno. 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 Grazie.